La provincia di Salerno ha avviato i lavori di completamento per la messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta la Mingardina, la strada che consente di raggiungere Marina di Camerote e Palinuro. In questi giorni sono tornati i rocciatori per installare la rete metallica nel tratto rimasto scoperto dalla precedente imbracatura. In particolare sarà collocata sul pezzo di montagna che domine il tratto di strada provinciale che conduce al bivio di Ricusati, in località Ciglioto, nel territorio di Camerota. I lavori per la sistemazione della rete Paramassi dovrebbero terminare nel giro di dieci giorni. Un intervento atteso dagli automobilisti perché servirà a porre fine alle continue cadute di massi, fenomeni che hanno messo più volte a rischio l'incolumità pubblica. E di qualche giorno fa la denuncia contro la provincia di un automobilista che mentre percorreva la Mingardina è finito contro un masso caduto sulla carreggiata dopo essersi distaccato dal costone roccioso. Intanto sul fronte viario arrivano buone notizie anche per altri due comuni salernitani. Nella seduta di lunedì scorso il Consiglio provinciale ha approvato la delibera che consente il trasferimento di gestione ai rispettivi comuni del tratto di strada provinciale che attraversa il centro abitato di Alfano e Casalbuono. Un passaggio atteso da anni dalle amministrazioni locali che in questo modo diventano definitivamente titolari delle strade in questione. Ciò vuol dire che i cittadini su quei pezzi di strada non dovranno più pagare le concessioni alla provincia e i comuni potranno prendersene cura senza dover sperare spesso in vano in un intervento della provincia per la manutenzione o la messa in sicurezza. Ad Alfano il tratto di venuto di proprietà dell'ente locale e in via Croce 400 metri che conducono nel centro del paese. Soddisfatto il sindaco Amelia Viterale, un atto dice atteso da circa sette anni.